In questo momento è in corso l'ufficio di presidenza, quindi bisogna vedere che cosa deciderà il presidente Zavoli e l'ufficio di presidenza. Non credo che possiamo continuare a reiterare voti senza esito, quindi non lo so, aspettiamo la decisione di Zavoli. Io dico, è un'opinione personale, che a quel punto è meglio dire si commissari la RAI, piuttosto che tenere l'azienda del servizio pubblico a bagnomaria ancora per tanto tempo.